Ciao amici di SaperFare e benvenuti in un altro video. Oggi faremo un piccolo trasmettitore miniaturizzato a 100 MHz in FM quarzato. Con soli tre resistenze, un quarzo e un transistor, faremo un appunto, un trasmettitore FM. Ma prima di andare a fare questo trasmettitore, seguiteci sul nostro canale SaperFare, iscrivetevi e attivate la campanellina. Adesso andiamo a vedere come si fa. Sigla. SaperFare SaperFare Grazie 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 Grazie